Gli uomini, le donne sono laggiù, blu, le donne di rettaggio, rosso, le donne di rettaggio. Questa è la 1, la 1 è 500 rotti in metri, il primo tiro che va fatto dopo quell'alberetto che vediamo a sinistra, per un secondo, vedete la 1 è bellissima, poi dobbiamo su. È semplice da guidare, sì, è un avro come tutte le altre. Il giocatore, il buon giocatore, arriva proprio il primo colpo, questa è un'area passata all'alberetto da tutto dispetto, hai fatto 220-130 metri anche se c'è un po' di discesa. Qua gira ogni prima sta il vento contro e che gira da sinistra a destra, non a caso qui non c'è niente.